Saranno tre gli scrittori che incontreranno i giovani studenti del liceo classico linguistico e coreotico Ruggero VII guidato dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. Si tratta di Maria Soresina, Salvatore Sutere e Vanessa Ambrosecchio. Tre appuntamenti in programma nell'ambito della manifestazione nazionale il maggio dei libri. Il tema scelto quest'anno per la rassegna da liceo nisseno è contemporaneamente leggere per comprendere. Il primo incontro sarà quello del 13 maggio alle ore 9 con Maria Soresina che presenterà il libro per una lettura alternativa della Divina Commedia che raccoglie il suo ultimo approccio critico su Dante e i suoi studi sulla sua opera. Mercoledì 18 maggio invece si parlerà di un giallo ambientato in Sicilia nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, una calda scia di sangue di Salvatore Sutera. L'ultimo appuntamento sarà dedicato invece ad un romanzo che parla di lockdown e dad in una scuola media di Palermo, tutto un rimbalzare di neuroni. Gli studenti infatti ascolteranno l'autrice Vanessa Ambrosecchio parlare del suo lavoro di scrittrice il 19 maggio alle ore 9.30.